Grazie al lavoro dell'IRX Neuromed, il saldo economico per il sistema sanitario regionale è inattivo. I dati sono stati pubblicati dal quotidiano Sanità. Sanità, finalmente una notizia positiva, esce dal quotidiano Sanità Italia sui dati del 2016. Mobilità attiva e passiva, un esempio per tutti il Molise. La regione ha un saldo negativo di percentuale di saldo di ricoveri, ma dal punto di vista economico è inattivo di oltre 22,6 milioni di euro. Questo perché nella regione la mobilità attiva e il conseguente saldo economico è legata praticamente tutta solo all'Istituto Neuromed di Isernia, un IRX centro di rilevanza nazionale di altissima specializzazione. Questo scrive il quotidiano Sanità a livello nazionale sui dati 2016, quindi una notizia finalmente positiva, ma questo lo torniamo a sottolineare, quello che stiamo dicendo da tempo della necessità del paziente al centro del sistema sanitario regionale, al di là di quanti Pierini vanno così un po' criticando la questione della mobilità attiva. Invece il quotidiano Sanità a livello nazionale porta ben altro. I ricoveri in Molise sono stati 62.598 nel 2016 per una mobilità attiva di 16.595 pazienti, mentre purtroppo in mobilità passiva 18.080 pazienti sono usciti dalla regione. I crediti sono stati 96 milioni di euro, i debiti pagati dalla regione Molise verso altre regioni 73 milioni, ma la differenza porta appunto, come si diceva prima, a più 23,5% per un totale di 22.640 mila euro. Questi sono i dati del quotidiano Sanità che portano che cosa? Alla necessità che la qualità e l'eccellenza si può fare anche in Molise. Voi pensate semplicemente che dalla mobilità passiva, che rappresenta circa il 30% di cittadini molisani che continuano ad uscire fuori per curarsi, qualora una grossa parte, se non tutta, di questi cittadini restasse in Molise, la cifra di 22.640.000 euro raddoppierebbe e quindi la sanità molisana si troverebbe ad essere un atto, un senso virtuoso nel panorama nazionale, ma soprattutto virtuoso a favore del cittadino, perché lo ritorniamo a ripetere, quando uno ha una patologia può e deve curarsi nel proprio territorio con strutture di eccellenza e di qualità. È quello che andiamo ripetendo da tempo, oggi lo riporta sulla questione mobilità attiva, il quotidiano di sanità, ma proprio perché è un atto positivo a favore del cittadino che può avere risposte nella propria terra, fermo restando di coloro i quali poi vengono da noi a curarsi, che è comunque un fatto economico anche importante. Ma questi dati stanno a testimoniare che la qualità e l'eccellenza in sanità si può fare anche in Molise, anzi si deve fare, la politica deve con questi numeri alla mano disegnare un percorso che porti appunto a dare un senso alla sanità di qualità e di eccellenza, perché di fronte alla malattia, di fronte alla debolezza di ciascuno di noi con una patologia, possa il cittadino molisano trovare risposte efficaci ed efficienti nella propria terra.